I risultati della dodicesima giornata di eccellenza Sicilia Gironea, Castellammare Partini Caudace 1-1, Dattilo Noir Albalcamo 2-1, Geraci Castelbuono Sospesa, Mussomeli Mazzara 0-2, Caccamo Cus Palermo 3-1, Parmo Vallicata 2-1 giocata sabato, Profavara Città di Sant'Agata 1-2, Marsala Canicatti 0-3. La classifica. Aprelicata con 30 punti, Canicatti 29, Città di Sant'Agata 26, Mazzara 22, Parmo Vall 21, Dattilo Noir 20, Albalcamo 18, Geraci 15 e una partita in meno, Mussomeli e Marsala 14 punti, Castellammare 12 e una partita in meno, Cus Palermo 11, Profavara e Partini Caudace 9, Caccamo 7, Castelbuono 2 punti e due partite in meno. Gli incontri del prossimo turno. Albalcamo, Mussomeli, Cus Palermo, Marsala, Canicattica e Stella Mare, Licata, Città di Sant'Agata, Mazzara, Parmo Vall, Caccamo, Profavara, Partini Caudace, Geraci, Castelbuono, Dattilo Noir.